Due composizioni di musica called Estone. Il primo brano è composto da Anna Lisi, che suona da Korda Musa Estone. Korda Musa Estone. E' una marcia anunziale. Aspetto questa... Vuol dire il titolo? Il titolo originale è Ulma Mars, che vuol dire marcia anunziale. E mi ha scritto questa marcia anunziale perché nei tempi passati si usava ad avere durante il matrimonio una Korda Musa che si chiama la marcia. Il secondo brano è una danza, Estone, che si chiama Kukwari Mare. Anna Lisi, alla Korda Musa, Alessandro Contrapasso e Andrea Contrapasso. Grazie. 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 Grazie.